Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Dropbox Paper. Che cos'è Dropbox Paper? È un servizio beta che permette di gestire gruppi e quindi creare documenti. È interessante sia per l'azienda oppure per chiunque voglia gestire un gruppo che sia di interesse o soltanto per divertimento. Vedete subito qua quanti documenti ho creato. Molti sono da eliminare e quindi da archiviare. Sto testandolo ed è molto semplice nell'utilizzo, insomma, nelle funzionalità almeno a livello generale. Poi ovvio più si utilizzano le cose più una persona comunque nota altre funzionalità. Come si distingue effettivamente questo servizio? C'è la possibilità di creare documenti oppure folder. Se volete creare documenti cliccate su documenti e su create, altrimenti su fold e create. Quindi andiamo su documenti. Creiamo il nostro primo documento. Vedete che la schermata è molto minimale, quindi è molto semplice. Basta che mettete qui e iniziate a mettere un titolo. Che ne so, Pippo Gruppo per esempio. Cliccate su invio e scorrete. Potete inserire qualsiasi testo. Io per esempio posso inserire, insomma, questi sono tutti esempi. Quindi adesso, siccome ne ho creati tanti, adesso scrivo un pochettino alla fafà. Scusate, ho sbagliato a dirlo. Quindi, basta che cliccate adesso per inserire oltre a testo. Si possono inserire immagini, si possono inserire file da Dropbox, si possono inserire tabelle oppure liste numerate oppure soltanto bullate. Poi le tax list oppure divisore, quando per esempio si gestiscono diversi gruppi. Per esempio, Gruppo 1 fa una cosa, Gruppo 2 fa una cosa e quindi dividi il lavoro. Oppure il codice, quindi è abbastanza personalizzabile. Una volta fatto ciò, che avete creato il vostro bellissimo documento, potete mostrarlo, metterlo come preferite e inserire commenti. Allora, iniziamo con mostrare. Per mostrare il documento è molto semplice, basta avere il link e tutto il resto. Copiamo il link e lo possiamo dare. Però potete comunque settare determinate cose. Nel senso, volete mostrarlo alle persone che hanno il link? Perfetto, è molto aperto. Potete mostrarlo soltanto a persone che fanno parte di una specifica parte di folder. Quindi avete creato il folder vostro e inserirle soltanto in quello. Oppure alle persone invitate. Poi potete scegliere anche di far modificare il file direttamente oppure di fare soltanto commentare. Quindi anche da questo punto di vista potete scegliere tantissime cose. Allora, io metto cancello perché comunque voglio che tutti possano modificare il documento. Basta avere il link. L'ho setto come un documento preferito, quindi comparirà poi nella parte dei preferiti. Vedete che qui ne ho due. Gli altri invece non compagno perché non li ho settati come preferiti. Una volta fatto ciò, posso comunque vedere le altre opzioni. Allora, mi fa vedere la storia del documento. Mi conta le parole del documento. Me lo fa stampare, me lo fa scaricare, me lo fa muovere, quindi altre cartelle. E me lo fa archiviare. Una volta che per esempio il documento non ci serve più, lo possiamo archiviare. Questo è quello che più o meno si può fare in un documento. Ora vi faccio vedere questo documento Pippo, insomma creato adesso. Ora vi faccio vedere magari il documento che ho fatto precedentemente, che non dico che sia bellissimo, ma che comunque c'è almeno un'immagine, un testo un pochettino più carino. Quindi potete vedere che comunque è semplice inserire l'immagine, potete settare l'immagine al centro, potete invece settare l'immagine grande, potete settare, insomma, queste cose le scegliete tutte voi. Vedete che qui compagno tutte le cose che si possono fare. I bullet potete utilizzare soltanto una lista oppure soltanto utilizzarne uno, insomma. Qui inserire il commento, questo è l'altro documento che ho creato. Allora, ora andiamo, anzi non torniamo, al folder. Una volta che cliccate su folder, vedete che potete creare anche un altro folder. Basta che cliccate su Create Folder. Io ne ho due creati, comunque uno poi lo dovrò archiviare. E probabilmente l'archiviere ho tutti. Forse uno già l'ho fatto. No, non l'ho fatto. Ok. Per creare è molto semplice. Basta cliccare qui. All'interno del folder si possono scegliere, inserire, insomma, che ne so, progetto, disegno, tot, 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 documenti. Quindi, per esempio, creare una bella cartella, inserire determinati documenti. E inserire anche persone che possono accedere all'interno di questa cartella. Quindi è molto carino. Potete creare tanti. Quindi magari se gestite tanti progetti è utile. E come anche il documento si può archiviare e si può mostrare. Quindi, più o meno, le opzioni sono le stesse. Non ve le faccio vedere. Ma basta provarlo. Basta andare sul sito ufficiale o comunque cercarlo sul motore di ricerca. Che sicuramente lo troverete. Ed è carino, soprattutto perché è betatester. Quindi non molti lo conoscono. E potete fare le vostre, insomma, diciamo, le vostre prove. Per trovare funzionalità che magari io ancora non ho scoperto. E così magari inseritele sotto il video. O comunque, insomma, mostratele in un altro video. Fate voi. Con questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video mettete qualche like. Se vi è piaciuto il servizio andatevi a iscrivere. Fate voi. Siete liberi di fare qualche voletta. E ci sentiamo al prossimo video. E ci sentiamo al prossimo video.